Willy! Guarda qua! Guarda! Eh, ci sono i viustel là! Sembra che sorride, guarda, è sempre così! No, lui non so giocare È di una volontaria lui, lo aveva trovato per strada, no stava in un altro canile se non mi sbaglio però dovevano, o stava per strada o stava in un altro canile però doveva essere spostato e quindi la volontaria sarebbe presa Willy! 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 Ciao Willy! Ci siamo anche noi! Willy! Willy! Tieni! Tieni Willy! Tieni! Vieni! Vieni qua! Ah, fa caldo, ho dimenticato di chiedergli una ciotola con l'acqua Con le zanne fuori, sembra un vampiro eh Vieni qua! Sì Vieni! Vieni qua! Vieni qua! Quindi ... Aspetta un po' Così poi quando stacco il video stacco poi Altra pipì prendiamo ecco qua Willy il felicione lo chiamavano vieni seduto seduto fai sei pronto? sei pronto uno due tre è un po' tonto sei un po' tonto? sì? sei un po' tonto vieni bravo Willy bravo 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 bravissimo bravo bravo bravo